Se state avendo problemi ad avviare il gioco NBA 2K25, quindi l'avete comprato e lo state avviando e non funziona, quindi in questo caso è possibile risolvere il suo problema aggiornando moltissimi driver sul tuo computer, scheda grafica e facendo molti settaggi nelle impostazioni di Windows. Ovviamente iniziamo prima ad andare su scheda, quindi vai a scrivere grafica, impostazioni grafica, vai su sfoglia, vai a inserire così il tuo gioco, ovviamente entri nella cartella del gioco e vai a prendere così NBA 2K25.exe, lo aggiungi qua sopra, una volta fatto vai su opzioni, Scegli così la tua scheda grafica, prestazioni elevate, la mia scheda grafica, prestazioni elevate e faccio salva. Una volta fatto se hai una scheda grafica Nvidia, assicurati di aggiornare i driver della tua scheda, ovviamente se ti trovavi meglio con i vecchi driver di Nvidia, questo è il sito che fa per te ovviamente gli ultimi driver rilasciati e le versioni vecchie. Quindi se tu vai a mettere così la tua scheda grafica, vai a mettere trova, ti porta così su un'altra pagina piena e piena di versioni di Nvidia, tutte le versioni vecchie, tutte. Abbiamo quella del febbraio 2024, una versione vecchissima, quindi puoi provare a scaricare una versione vecchia e provare a vedere se si apre il gioco. Se invece puoi scaricare nuovi driver c'è Nvidia app, quindi scarichi e installi così il programma e vai su driver e aggiorni così i driver della tua scheda video. Ovviamente io non ho problemi all'avvio di nessun gioco perché io so gestire tutti questi problemi e risolvo sempre questi danni e aggiorno sempre i driver dei miei componenti. Per AMD invece c'è il programma AMD Software Adrenaline Edition per scaricare il software, installi e aggiorni così i driver della tua scheda grafica o processore. Passiamo direttamente alla parte del DirectX per la tua scheda grafica Nvidia che ti consiglia di scaricare e installare sul tuo computer, quindi fai scarica. Scarichiamo e installiamo così il driver del Microsoft DirectX, accettiamo il contratto, togliamo il Bing Toolbar, aspettiamo così l'installazione perché una volta installato tutti questi componenti deve riavviare il tuo computer. Una volta fatto fai fine, poi abbiamo il Microsoft Visual C++, anche questo ti ho lasciato in descrizione quindi ti consiglio di scaricare e installare la parte per 86 o per 64, poi scaricarle e installarle tutte e due. A me sicuramente mi dirà ripristine perché le tengo già installate, quindi una volta installato il tutto devi riavviare il tuo computer. Poi in questo caso il gioco avvialo sempre nel launcher, quindi di Steam o di Epic Games, fai tasto destro sopra, esegui come amministratore oppure mostra attropazioni, proprietà, compatibilità, disabilita l'ottimentazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore, modifica impostazioni dpi elevati, dpi programma, avanzato, fai applica e base. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!